Il treno, Intercity, 6, 1, 5, di Trenitalia, delle ore 14 e 5, per Crotone, è in partenza dal binario 3, fermala, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Lasto San Salvo, Termoli, San Sovero, Foggia, Barletta, Prani, Bari Centrale, Gioia del Colle, Taranto, Metafone, Oliparo, Tursi, Redisace, Sigari, Corelliano Calabro, Rossano, Cariati, Cirodni. Il treno, regionale, 12, 0, 8, 1, di Trenitalia, delle ore 14 e 28, per Fabriani, è in partenza dal binario 5, fermala, Ancona Torrette, Falconara Marittima, Falconara Stadio, Castelferetti, Chiaravalle, Chiesi, Monte Carotto, Castelbellino, Castelplanio, Putramontana, Serra San Quirico, Genga San Vittore, Terme, Albacina. Salao Trenitalia, del suo Sì 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.